Il concetto base dell'album è quello di una specie di ribellione da parte del nostro corpo al mondo del web a tutto questo mondo che in un certo senso ti condiziona anche inconsciamente in tante scelte dal vestire al mangiare al parlare al dire delle cose allo slang nuovo che è dettato dal web che secondo me secondo noi è un mondo che va usato e non bisogna essere usati da quel mondo è un po' questa denuncia qua You è di questa denuncia qua Il titolo è preso dal singolo You che è la seconda canzone che racchiude e racconta al meglio questo concetto e quello che dico nel testo è forse non ti rendi conto che il tuo corpo sta scegliendo te non quello che tu pensi di essere e di raccontare di te stesso ma è il tuo istinto che ti sta dicendo svegniti Le collaborazioni sono venute fuori nella maniera più naturale possibile perché sono frutto di risposte di mail varie in cui ad esempio con gli Oasis chiedevamo ma secondo voi questa roba qui è troppo Oasis? e Andy Ben ha risposto dicendoci ma io questa roba qui la voglio scrivere con voi voglio sonarla con voi I want to join in e quindi tipo con gli Oasis è andata così con Gucci Mane stessa cosa insieme a Davis Group abbiamo detto ragazzi siete conosciuti all'estero siete un uomore all'estero ma andatevi bene ai vostri amici che qui secondo me servirebbe una collaborazione internazionale ha risposto Gucci Mane insieme anche ad altri rapper e noi abbiamo preferito lui perché era un personaggio che un pochettino ci piaceva tanto anche prima di poter fare la collaborazione con lui quindi ci è piaciuto un sacco che le collaborazioni siano venute fuori in maniera naturale in pratica ci siamo accorti che noi stessi ascoltiamo la musica grazie alle piattaforme di streaming in maniera diversa da come la si ascoltava quando come la ascoltavano i nostri papà quando la ascoltavano anche i nostri zii perché c'era il concetto di LP adesso non c'è più il concetto di LP con un suono unico dall'inizio alla fine ma ci siamo ispirati un po' al mondo delle playlist che possono essere composte dalla mia i primi tre pezzi di Pink Floyd seguiti da due pezzi di Drake e via dicendo quindi molto varie gare e accorgendoci di questa cosa qui ascoltando album come quelli dei 31 Pilots che proprio ragionano in quella logica ma si mettiamo dentro più sapori però anche lì non c'è stata una ricerca macchinosa della cosa non c'è stata una strategia in quello semplicemente ci venivano fuori idee ma cominciamola così cominciamola con lì chiamiamola con lì chiamiamola con Tommaso Collino qui ci stanno gli oasis non possiamo metterci dentro l'edza era un po' abbiamo ragionato in quella logica lì e secondo noi è un amore che non sta